su tutti gli elementi, quindi davvero straordinari. Qui ci sono gli attimi di preparazione e la concentrazione di Stefania Bertone, Ondra Otaver. Bellissimi quando prendono gli ultimi attimi guardandosi occhi negli occhi davanti alla loro lunatrice, Franco Bianconi. Jason Dungeon li ha seguiti in questo ultimo periodo proprio a Detroit e allora sono pronti per Painted Black e Rolling Stone. Grazie a tutti. Buon attenzione. Buon attenzione. Buon lanciato. Buon attenzione. 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 attenzione. All'inizio. Non è immagino semplice. No perché poi hai tutto il programma davanti. Assolutamente. Poi è bella la presentazione di questo pezzo struggente. Veramente la perdita di un amore. Bellissimo. Rappresentato benissimo. Un pochettino sbilanciato. Questo è stato il problema. Questo è il twist. Buono anche il catch. Lanciato. Li ho visti molto migliorati sui lanciati. Dall'anno scorso. Stanno lavorando veramente tantissimo. Sulla velocità. Direi. Due cambi di posizione. Noi stiamo vedendo il lavoro del pannello del giudice. È perfetto perché hanno il sollevamento a livello 4. La step defense a livello 4. La spirale a livello 3. La trottola combinata a livello 4. I componenti sono buoni. Vediamo quale sarà la loro posizione in questo momento. E allora con 59,07. Loro sono in quarta posizione. Sono alle spalle dei francesi Vanessa James Morgan. La gara è a terra. Guarda veramente per un pelo. 60,98 i francesi 59,07. Stefania Bertone Ondra Oteret al comando. Sarcenko Solkovi con 73,47. Chrissy Mortowers, Dylan Moscovich con 69 e 28